perfetto siamo in diretta ho capito che la mia immagine non si vede molto bene quindi l'ho eliminata e partiamo con la diretta vera se c'è qualcuno in chat ricordo se c'è qualcuno connesso e quindi sta guardando in diretta questo video può commentare sarò lieto di partecipare quindi di dire anche considerazioni che mi dite voi perché faccio questo video perché recentemente hanno chiuso diciamo hanno chiuso un po tutto hanno messo delle restrizioni che vanno a colpire anche chi aveva diciamo l'opportunità di vendere del cibo però direttamente al pubblico cioè hanno limitato il pubblico se non ho capito male non hanno limitato l'asporto però hanno limitato il flusso di persone che va verso quel posto quindi l'unica cosa che è consentita diciamo è un po il trasporto della merce ovviamente sul cibo è complicato alcuni alcuni ristoranti e alcune attività si stanno adeguando immagino ovviamente che nella ristorazione rientrino anche le pasticcerie che avevano all'interno al bar in cui servivano i loro i loro pasticcini quindi questa diretta è molto importante perché perché se hai un'attività e un secondo che mi connetto direttamente per vedere se c'è qualcuno in chat comunque se è un'attività così che nella ristorazione e diciamo che è nella pasticceria secondo me questa è la diretta giusta per riuscire a differenziarsi nel mercato quindi ho cominciato facendo delle ricerche vi faccio vedere delle immagini e la prima ricerca che ho fatto ancora all'epoca diciamo che ancora circa un anno e mezzo fa forse anche due era 3d printer chocolate mi ricordo saranno due anni e mezzo forse ho anche tre ero semplicemente in viale piave e un collega un amico diciamo comprato la stampante 3d per riuscire studio al cioccolato non è riuscito perché effettivamente le stampanti non erano ancora pronte direi che anche oggi secondo me non sono pronte ma qualche strumento più evoluto secondo me c'è ecco perché vorrei rendervi partecipi partecipi della ricerca che ho fatto anch'io diciamo che delle considerazioni iniziali prima di andare a vedere che tipo di stampanti ci sono e fare delle valutazioni visto il momento e visto come andrà sicuramente meglio cominciare a differenziarsi quindi a capire che bisogna sia andare online ma bisogna anche mettere online un servizio differente cioè qualcosa che non esiste qualcosa che non è sempre la stessa cosa smettiamola diciamo con il sito internet il sito internet per chi fa ristorazione bar e lavora in quei settori lì serve sì ma è più un servizio è come stampare il menu è un raccoglitore di clienti cioè da lì magari cercano il numero eccetera eccetera non è dal sito internet che conoscerete altri clienti e coinvolgerete altre persone con la vostra attività è più che altro dei social più che altro dalla possibilità secondo me di andare in diretta e di mettere i video online ho avuto delle ottime esperienze diciamo con il mio canale quindi ho aperto un canale youtube adesso vi faccio vedere qual è e mi sono accorto che effettivamente il poter andare online è importante perché perché riesci a raggiungere delle persone e hai anche i dati cioè tu hai la possibilità di arrivare alle persone e continuare a fargli vedere i tuoi contenuti ecco perché ti faccio vedere un secondo il mio creator eccolo qua tutto a posto mi sa che ti sei iscritto stamattina mi hai mandato la foto non faccio il tuo nome ma credo di aver capito chi sei e vi stavo facendo vedere un secondo che è importante secondo me arrivare a molte più persone possibili e fra l'altro dare un servizio differente nel senso che si è utile per esempio far vedere come fare delle creazioni delle cose fai da te ma per esempio nel fai da te ci sono un sacco di persone che ormai ci sono e hanno capito che questa è la strategia giusta in altri settori per esempio non ho visto che c'è nessuno che fa dei tutorial delle guide o fa dei lavori semplicemente con i stampanti 3d che stampano food che stampano cibo creme e diciamo cioccolato allora la mia ricerca è partita da dove è partita da 3d printer chocolate e avevo trovato food bot ok queste sono un po di immagini di cibo stampato sono io sono io sono poche le persone che sono dentro ma devo fare un po di contenuti quindi faccio un po di prove e vediamo quando si iscriveranno più persone lo promuoverò e magari ci saranno più persone collegate magari si parlerà e si interagirà anche quindi queste cose sono un po di stampe fatte con le stampanti il se uno è capace diciamo ad utilizzare diciamo ad utilizzare grazie 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 tipo diretta stream ogni giovedì alle 19 eh infatti mi sa che ho visto che i molti hanno una programmazione e quindi tutti i follower sanno che in quella data lì però siccome adesso devo stare a casa perché per non contagiare gli altri non ho diciamo niente di serio però siccome sono un po' raffreddato mal di gola mi sento un po' le ossa strane ho detto sto a casa non vedo nessuno l'ho fatto un giorno in anticipo e quindi per ora mi chiuderò a casa e starò su Twitch e su YouTube non posso starci fra l'altro perché ho tutto inditta quindi starò principalmente qua e parlerò ho visto che molti non fanno tutorial è una cosa che ho notato su Twitch ma semplicemente cioè fanno vedere anche delle cose e quindi parlano in questo modo riescono anche a far vedere quello che vogliono al pubblico senza insegnargli qualcosa tipo fare dei corsi sullo slicing per esempio una diretta interessante che volevo fare che sicuramente fisserò è quella di magari non so alle 19 ok però una persona che ha delle difficoltà con un file 3D me lo manda e assieme anche alle persone lo analizziamo per capire appunto se stampabile è anche il tuo busto e se vuoi si potrebbero fare io ieri ho provato a avviarlo però appunto ho trovato delle difficoltà e effettivamente non sarebbe male metterle solo che essendo lavori così tuoi io non li metterei online magari si può prendere un altro lavoro simile e poi ci sono da fare anche tante prove con la stampante però per quanto riguarda stampe di PLA o stampe semplici però complicate nella geometria mi piacerebbe aprire quella diretta non sarebbe male far per esempio delle dirette assieme in cui facciamo vedere che lavoriamo appunto sull'ortopedia poi ovviamente bisogna organizzarle bene quelle perché ti esponi finché io così parlo del più e del meno una cosa però c'è bisogno anche sapere quello che poi andiamo a dire quindi mi ha fatto già un po' di test effettivamente quindi continuando queste qua sono un po' di stampe la prima ricerca che ho fatto è Foodbot Foodbot secondo me non si è molto sviluppata però all'epoca mi sembrava sviluppata nel senso se è scritto il 13 settembre 2017 ha pochissime visualizzazioni e guardate per esempio le mie in analytic che sono comunque costante nella pubblicazione cioè solo questo mese il tuo canale ha ricevuto 26.000 visualizzazioni negli ultimi 28 giorni con le entrate che non contano niente con tutti i grafici eccetera eccetera cioè sono riuscito a parlare con le persone per 1600 ore e questo secondo me è importante in ogni settore volentieri dice perfetto ci sentiamo telefonicamente e organizziamo vediamo come riesco a gestire le prime dirette appunto perché non vorrei poi fare delle gaffe e comunque non riuscire a far vedere tutto perché ieri ho riscontrato delle difficoltà per far vedere per esempio i parametri in Idea Maker perché non riuscivo a configurarli quindi sto ancora capendo un po' quindi il mio canale ha ricevuto tante visualizzazioni secondo me tutte le persone che lavorano nel settore di ristorazione e pasticceria oggi dovrebbero pensare di aprire un canale che non deve essere per forza con YouTube ma ho scoperto anche Twitch per dare dei contenuti diversi cioè cosa fai? ti fai conoscere e ti posizioni nella mente del consumatore anche se lavori localmente io ho tanti amici che lavorano sul territorio hanno un bar per esempio sul territorio secondo me anche se lavori localmente non devi farti pubblicità localmente ma devi andare su tutta Italia cioè tutte le persone in tutta Italia devono sapere che il tuo negozio esiste e che tu stai facendo quella cosa lì esistono alcune persone appunto che infatti trasversalmente cioè magari un'azienda, un mio cliente fa stampi però si sta posizionando nella stampa di stampi con le stampanti 3D e quindi secondo me chi ci vede lungo fa così poi poi questo qua è Foodbot ci guardiamo un secondo il video anche se è molto rapido questo video è stato pubblicato nel 2019 cioè l'anno scorso e c'è la stampante all'opera che secondo me sta estrudendo un Pikachu di cioccolato è molto rapido perché secondo me questa azienda non investe molto nella comunicazione video invece Creality ho visto per esempio delle avoli che ha fatto c'ha youtuber molto amici che fanno vedere la stampa 3D effettivamente la stampa 3D è anche un settore in cui ci sono molti uomini che guardano hanno scelto anche delle persone vedete quindi che questo estrusore estrude cioccolato non si vede particolarmente bene ma è possibile poi vediamo un altro video fatto sempre da loro magari è una stupidata però sta progettando secondo me vediamo quindi questa è la stampante 3D che abbiamo visto sembra piuttosto evoluta fra l'altro cioè dal computer quindi stava disegnando un oggetto e guardate che tipo di stampanti 3D strane è come se fossero dei distributori automatici quindi questa stampante qua potrebbe essere piuttosto automatica adesso magari non si sono sviluppati perché? perché ho visto semplicemente i canali ma magari tecnologicamente sono avanzati vediamo altre stampanti o altri video sempre 16 luglio 2019 foodbot mi verrebbe da cliccare col tasto destro e spostarmi per vedere gli oggetti in 3D ma questi qua sono tutti lavori stampati di food quindi credo siano tutti di cioccolato magari potrebbero essere anche zuccheri creme e miscele fatte da loro perché adesso poi andiamo a vedere il sito eccola qua questa è quella che avevo visto io all'epoca e questa stampante qua sembra abbastanza buona nel senso dopo andremo a vedere anche quanto costa però secondo me se qualcuno la compra facilmente riuscirà a ottenere qualcosa se è seguito da qualcuno che è in grado di estrudere già materiale per esempio io sarei disponibile nel fare delle consulenze o nel lavorare in partnership quindi magari trovare anche una via di mezzo in cui facciamo andare questa stampante 3D e ti insegno ad utilizzarla però facciamo anche vedere facciamo degli stream assieme bellissimi secondo me questi lavori cioè io se oggi mi licenziassi dalle mie due attività cioè da docente e da socio come service di stampa 3D diciamo nel filamento plastico andrei qua e comprare questa stampante farei questo investimento e poi farei un sacco di video e farei vedere cosa posso fare e non come farlo forse perché effettivamente farei vedere all'inizio solo cosa posso fare poi magari vedrai il mercato e potrebbe anche essere che comprando questa stampante qualcun altro la compra e poi magari qualcuno lavora in parallelo con una stampante di qua e una stampante di là ovviamente avere due stampanti quindi avere due stampanti e lavorare in parallelo aiuterebbe il fatto di lavorare a distanza polipo polipetto stampato 3D tutto cioccolato perfetto quanti video hanno? e ne hanno un po' ne hanno un po' da due anni a questa parte si sono lanciati effettivamente due anni e ci sta anche che stanno ancora sviluppando correttamente la stampante e non siano ancora a livello mondiale conosciuti perché li ho conosciuti cercando e non mi è arrivato il loro nome la stampante però secondo me questa è una stampante valida da provare e guardando anche il loro sito internet non si può tradurre perché secondo me non è fatto molto bene però questa qua è un'immagine per esempio io ho a che fare con i siti internet non hanno investito molto in comunicazione secondo me quindi non hanno sistemato ho già tradotto queste cose qua che non serva a niente però ora non si può più tornare indietro quindi loro cos'è che fanno fanno stampanti 3d fanno un'interfaccia quindi uno slicer ok che può stampare un pro forse qua utilizzano anche lo stesso cura che utilizzavo io vedete qua perché ci sono sempre i parametri che servono ma e poi forse avranno un programma che sposta il gcode sulla stampante si possono mettere più ingredienti che questo è importante quindi non solo cioccolato poi vabbè ha un'accuratezza e sembra abbastanza precisa con il limite ovviamente delle creme nel senso che comunque verrà disciolto tutto e poi secondo me ti danno anche un'applicazione con cui fare dei disegni semplici anche perché magari i cioccolatini non possono avere forme complicate cioè noi non possiamo stampare quello che voi avete visto nella diretta ieri hai un'idea dei costi su foodbot vediamo subito i costi dopo riprendiamo da qua tanto sono in diretta fino a che non comincio le lezioni con la scuola quindi fino alle 11 riguardo a noi sì e le avevo viste inchiesta contattaci non devo tradurre la pagina eccola qua perfetto contact us news ah non c'è non c'è non c'è non c'è però io una volta avevo visto i prezzi proviamo secondo me costava circa 1800 o 2008 2000 ed 2100 dollari è anche scontata quindi 2005 dopo non conosco bene la valuta però eccola qua nel senso abbiamo trovato i costi non è poco non è tanto secondo me per un pasticcere o per un barista dico una cosa incredibile o per un settore della ristorazione ci sta nel senso sono abituati a pagare cose molto di più e che producono meno solo per far contenti alcuni clienti che ormai non forse non hanno neanche il più lavoro o comunque magari non sono neanche più qua nel senso alcune volte il motivo di questa diretta è che ovviamente questo strumento qua non costa tanto però è fondamentale guardare al di là di quello che hai sempre fatto se sei se lavori come barista e hai anche una pasticceria interna perché non puoi far sapere i clienti o far vedere i clienti che stai pensando a cose diverse perché non puoi fare dei video per farti conoscere e quindi aumentare diciamo il valore della tua attività o del tuo marchio ecco perché quindi secondo me se io avessi adesso una ristorazione fossi in quel settore lì bar ristoranti eccetera eccetera comprare questa nel senso con il rischio di settorializzare la mia azienda magari mi percepiscono solo con questo però poi tramite questa specializzazione comunicherò che ho questa mia attività potete venire a vedere la stampante a trovarmi e potete rimanere aggiornati iscrivendovi per esempio ai canali foodbot a questo costo analisi prezzi all'ingrosso fra l'altro quindi qua sotto se vuoi diventare un rivenditore puoi e la cosa effettivamente non sarebbe male ovviamente il diventare rivenditori comporta anche il fatto che tu la sappia usare non tanto che tu la testi per le prime volte però testandola secondo me come attività dopo uno può fare le sue considerazioni tornando sul loro sito internet inglese inglese volevo semplicemente cercare i materiali possibili ma questo sito è bruttissimo veramente brutto vorrei capire i vari materiali quindi e quando dice ingredienti multipli dove posso andare a vedere qua non mi fa cliccare qua secondo me la stanno ancora innovando questo sito qua perché è possibile avevo letto una volta i vari materiali quando mi ero informato c'erano dentro delle creme diciamo quindi era molto interessante secondo me non sono riuscito a sviluppare tutta la vicenda ma cominciano diciamo magari a funzionare per il cioccolato vedete per esempio che in questa immagine questa stampante utilizza lo stesso cura che io ho già spiegato moltissime volte diciamo ai miei studenti soprattutto ma anche alle persone cioè gli faccio una testa tanta questo cura qua c'è dentro diciamo che è molto intuitivo c'ha pochi parametri si sa dove cosa si va a toccare non c'è la possibilità di disattivare o attivare cose incredibili quindi per esempio qua fa vedere scaricando un file a caso nelle librerie online è possibile fare il file da stampa poi si va in stampa con la loro applicazione e si ottiene per esempio questa qua è una geometria anche abbastanza complicata quindi questo è il processo che già io faccio con la plastica ma è possibile fare con il food con il cioccolato se stai guardando questa diretta in ritardo ti dico le prossime volte cercherò magari fra un mesetto o due comincerò a mettere delle date fisse per ora voglio farle così un po' casuali ma se ti scrivi ti arrivano le richieste soprattutto se lavori oggi in un settore che è chiuso comincia un po' a seguire questo tipo di diretta a pensare in modo differente cioè la stampa 3D può entrare quindi l'additive può entrare anche nel tuo settore nonostante tu non ci abbia mai pensato foodbot l'abbiamo analizzato abbiamo visto cosa fa non abbiamo capito i materiali inseribili però pazienza poi andiamo al di là con le ricerche qua ci sono un sacco di immagini sicuramente non solo foodbot ha fatto questa cosa però è quello che ho trovato per primo e ora ormai ce l'ho in testa in genere il primo che fa una cosa poi rimane in testa le persone andiamo a vedere degli altri video e vediamo di chi sono per esempio questo ho cominciato a guardarlo prima è un ragazzo che sta stampando con una stampante col cioccolato vediamo cosa combina ha comprato per esempio ha una ender c'è una ender che abbiamo anche noi tutti noi ha comprato delle tavolette di cioccolato in un supermercato a caso e poi ha comprato questo istrusore qua ok intanto che il video gira voglio vedere se c'è sotto qualche link continuiamo a guardarlo un secondo quindi è un adattatore c'è un ingranaggio quindi è più o meno un tirafilo un estrusore l3d ok perfetto grande è questo ragazzo qua guardate dietro la stampa poi ha un diciamo una piccola tramoggetta una tramoggia sempre nel senso è un cilindro in cui viene inserita la crema un problema vi anticipo già del cioccolato è la termica quindi bisogna controllare le temperature vi dico quindi magari questa cosa è un upgrade sì magari ora funziona però ci sono un sacco di cose che vanno considerate soprattutto per continuare a extrudere questa qua è la ender ecco come viene montato sembra tutto perfetto c'è un nuovo piano di stampa questo si mangia anche il cioccolato andiamo un po' avanti ok eccolo qua grandissimo secondo me chi si perde è questa diretta qua pazzo scatenato eccolo qua praticamente scioglie il cioccolato le temperature secondo me sono bassissime vediamo sta provando con altro cioccolato secondo me la stampa gli è fallita pulito tutto ai 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 e vediamo che ci riprova sicuramente il cioccolato tradizionale non va bene nel senso come dicevo prima il materiale che inserisci è fondamentale magari lo strumento funziona ma infatti vediamo cosa sta combinando sta stampando addirittura qua sopra quindi però anche qua se ci pensate è possibile stampare sopra a altro cibo no? cioè non ci avevo pensato neanch'io prima di vedere adesso questo video qua cioè io pensavo di fare dei cioccolatini però è possibile decorare che è incredibile magari una fetta di pane ok? o un pasticcino che sei abituato a fare per esempio qua sta stampando la barca che è una stampa complicata secondo me per questo tipo di materiale fa schifo però ci sta riuscendo e ripeto che secondo me questo sta testando molto cioè ci sono problemi comunque un po' di flussi e un po' di temperature e questi sono un po' gli oggetti che ha fatto cioè non è riuscito a fare la barca ma però però scusate è è riuscito a fare questo vaso qua ora stoppiamo questo video perché l'abbiamo già visto da un sacco di tempo vediamone un altro e controllo eccola qua questa qua è un'altra stampante guardate il nome dopo andiamo a vedere anche il sito c'è un'intervista però vorrei soffermarmi su questa stampa qua che è una stampa sempre col cioccolato questa qua è la stampante e sta lavorando mentre quest'uomo poi sta stampando vediamo anche gli altri lavori questo è cioccolato per lo meno così dichiarano perfetto allora guardiamo un attimo in descrizione vediamo i vari link che hanno messo ok iscriviti semplicemente su youtube mi dice iscriviamoci non credo effettivamente sia dedicato a mi disiscrivo subito quindi l'autore diciamo non ha messo il link dell'azienda che produce questo macchinario ma andiamo subito a vederlo eccolo qua vediamo se hanno un sito o se non hanno un sito vediamo anche price forse loro lo rivendono nine non so perché c'è questo link sarà pubblicità amazon no non si vede non si trova non ha un sito o forse non riesco io a trovarlo diciamo però ci sono i riferimenti ci sono gli articoli e questa azienda qua afferma che sta continuando ad esplorare la possibilità della stampa 3d di cioccolato collaborando con una scuola di cucina di fama mondiale e finanziando due studenti per concentrarsi appunto sull'esplorazione delle applicazioni del mondo reale della tecnologia cioè sono due persone che continuano a ricercare probabilmente sono persone della scuola di fama mondiale qualche università o scuola e semplicemente portano avanti la stampa e la progettazione secondo me di una stampante per fare cioccolato questi qua sono i costi di foodbot per esempio li abbiamo visti anche prima stavamo guardando questo che chiudiamo e esploriamo un altro video che dura sempre poco vi fa vedere una stampante che stampa cioccolato vedete secondo me è molto simile alla stampa 3d con la plastica nel senso io che conosco gli slicer e ho a che fare con l'estrusione non è altro che un'estrusione di una crema piuttosto che di un filamento e non escludo il fatto che alcune aziende propongano le cioccolati o creme già con le loro miscele in filamento questi qua sono oggetti fatti tutti col cioccolato potete ricordo intervenire e chiedermi qualcosa nella chat come ha fatto Gonzo Superstar perfetto secondo me però non ho visto riferimenti di aziende quindi andiamo avanti questi qua vediamo sono altre ricerche che avevo fatto vediamo se c'è qualche azienda qualche riferimento della macchina ovviamente non ci sono secondo me non vogliono ancora esporsi troppo bisognerebbe fare una ricerca più approfondita ovviamente avevo provato a cercare diciamo food 3d printer e sono uscite le 20 no tutte le stampanti migliori del 2020 e questo articolo qua questo sito qua fa articoli interessanti e vorrei comunque leggerlo un secondo con voi cosa vuole in pentola vediamo questo per esempio è l'elenco delle stampanti 3d che stampano cioccolato paste spesse cioccolato paste o creme secondo me forse anche proprio pasta andiamo a vedere e ovviamente non ti fanno entrare sul sito ultimaker eccola qua estrusore aggiuntivo questa azienda cos'è che fa prototipazione produzione fa ricerca sviluppo e fa i materiali vediamo quindi non entrano molto nel dettaglio però vedete che queste sono diciamo le siringhe con cui in genere viene spinto dentro il materiale sciolto ok per esempio questa è un'azienda che cos'è che ha fatto ha fatto un upgrade secondo me per ultimaker che è in grado di stampare creme o cioccolati chiudiamo qua vediamo ancora la lista vi lascio la lista guardiamo anche i prezzi li confrontiamo e facciamo le considerazioni del caso se qualcuno guarderà questa diretta e ha a che fare con il settore della ristorazione mi raccomando approfondisci molto il fatto di poter stampare delle cose tipo cioccolatini o creme non tanto per poi venderle ma per dare un plus alla tua attività che oggi sicuramente sta soffrendo alcune attività non sono molto utili cioè è da circa 4, 5, 6 anni che sento e anche io penso questa cosa e lo dico anche che la tua attività cioè diciamo alcune attività non sono utili no nel senso il settore dell'ortopedia è utile il settore dell'alimentari visto come bene primario è utile ma una pasticceria per esempio non è utile cioè un estetista o un parrocchiere non è effettivamente utile come in particolare un bar mi spiace dirlo ma un bar non ha una sua utilità se non quello di raccogliere delle persone far perdere tempo alcune persone farle divertire però anche di far guadagnare l'imprenditore che ha comprato quel bar lì ecco perché oggi sono alcuni settori sono in crisi sì perché c'è il covid ma anche perché in fase di covid queste attività qua non sono utili anzi cioè sono un problema perché creano dei disastri a livello sanitario più alti ecco perché quindi li hanno chiusi ecco perché secondo me dovresti predisporre se hai un'attività del genere la tua attività in modo differente quindi vediamo che c'è print2 test my cousin vediamo subito perché sono curioso voglio andare a vederla qua in diretta ho ancora mezz'ora da dedicarvi e da dedicare anche a me queste dirette qua mi fanno informare molto fra l'altro eccola qua allora la stampante 3D my cousin della startup tedesca print2 test e forse l'ultima giunta alla piscina l'abbè tradotto malissimo più significativamente tuttavia è anche il più economico quindi questa stampante qua è la più economica almeno torniamo qua e vediamo ah interessante quindi questa stampante costa 500 dollari spedizione compresa diciamo tutte le spese eccetera eccetera non so assolutamente come gira però costa poco quindi effettivamente 500 euro per un'attività messe a costo non è questo gran problema soprattutto le ultime perdite utilizza una cartuccia quindi una no tend in acciaio in acciaio inossidabile stampa il cioccolato fornito al produttore interessante poi andiamo a vedere anche magari il sito e vediamo che materiali ha se li rivendono perché volevo appunto vedere i materiali che vengono inseriti all'interno di queste stampanti ancora batteria interna per stampare off grid che non so cosa voglia dire per un massimo di due ore viene fornito con più di 200 modelli 3d installati quindi hai già 200 modelli 3d installati cioè secondo me per una stampante 3d non ha senso dare i modelli 3d perché esistono già un sacco di librerie però se dai un servizio proprio a quell'attività lì che fa cioccolatini allora è importante dargli ovviamente oltre che i materiali i file da stampare che già testati non deve fare niente sono curioso prima di vedere le altre stampanti della lista voglio andare a vedere questa stampante qua la mia vita è così dentro a google e ricercando informazioni quindi effettivamente queste dirette qua uniscono l'utile al dilettevole e vediamo un secondo qua cosa succede si vede un pezzo di nero togliamolo ok perfetto quindi questa stampante qua vediamo se c'è il loro sito e pro così andiamo a vederla subito e quindi io già stavo dicendo mi informo molto devo fare questo lavoro e e quindi lo faccio in diretta signori anche se ci sono pause cose strane interruzioni chiamate magari da qualche cliente magari metto giù e dopo chiamo dopo su youtube sono abituato che registro un video taglio almeno 150 volte pause ed errori invece qua mi piace perché poi sentirete tutti gli errori però prima di tutto mi abituo a parlare in diretta seconda cosa mi abituo a non fare errori terza cosa non devo post produrre tutti i video sto ancora ragionando sul fatto di caricare queste dirette su youtube per farvi pubblicità su twitch fatemi sapere se mi interessa o no vediamo quindi pro cusini questa attività qua che fa la stampante 3d alimentare che costa poco abbiamo visto che ce l'hanno consigliata garanzia di successo stampa 3d alimentare marchio registrato consente per la prima volta diciamo l'artigianato tridimensionale che è una parola ibrida in una precisione senza precedenti ok la stampante funziona come una sac a poche e fin qua ci siamo sapete tutti cos'è quindi è un qualcosa che schiacci strato per strato come la stampante 3d e come gli slicer che siamo abituati ad utilizzare appunto perché questi software qua sono facili da usare ci sono molti corsi e quindi è quasi un vantaggio per chi vende le stampanti poter utilizzare i programmi già in open source ok proseguiamo sistemi di stampa 3d alimentare incredibile signori guardate qua ma qua esistono già le persone che hanno avviato questo business ma qua in Italia siamo in ritardo proprio mentalmente mentalmente in ritardo e per fortuna che non vedete la mia faccia perché altrimenti avreste già capito tutto dalla mia espressione quindi siamo in ritardo non si non per esempio anch'io ero in ritardo non sapevo neanche cosa fosse Twitch ok me l'avevano già consigliato dei ragazzi 16 anni ok non li avevo ascoltati però dopo un po' c'ho cominciato a pensarci effettivamente è molto comodo quindi per farle dirette come voi dovreste considerare se avete un'attività nel settore della pasticceria o bar ristorazione di cominciare magari ad avviare una piccola produzione di cose personalizzate che si possono mangiare con le stampanti 3d ma non è tanto per guadagnare su quello che state facendo vi dico ma è per differenziarvi questa stampante secondo me costa come abbiamo visto 500 dollari ma gli impianti che vediamo qua non costano 500 dollari secondo me cioè poi vabbè il costo è relativo perché se sei bravo a monetizzare a fare l'imprenditore poi lo recuperi come incassando perché vendi quindi vedete che questo c'è anche un software che ti consente secondo me il disegno o forse anche lo slicing ti ricordo che se non sai cos'è la stampa 3d devi assolutamente riuscire a ottenere un oggetto quindi se tu vuoi un cioccolatino questo qua è il mio account di tinkercad modifico questo elemento e io tramite questo programma disegno e faccio un progetto quindi se stai pensando di comprare una stampante così devi riuscire a sapere usare un programma tipo questo ma è molto semplice è stato studiato per i bimbi quindi il tipo di progettazione è molto 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 semplice ma è utile secondo me per quanto riguarda il food e l'alimentare quindi io qua posso modificare i file posso esportarli una volta esportato il mio progetto 3d che può essere un piccolo cioccolatino a cuore cosa faccio lo importo dove nello slicing in cui nello slicer esporta quindi ho cliccato qua esporto in stl o anche in obj questo me lo esporta lo prendo lo trascino all'interno del mio slicer che adesso vi faccio vedere cosa accade cancello il pezzo vi faccio vedere commento non solo scusatemi per la plastica ma tutte quelle che estrudono ok avete visto Tinkercad forse ve l'ho fatto conoscere per la prima volta avete visto lo slicer che è quello con cui abbiamo fatto il file e poi avete visto anche la stampante stavamo guardando il sito internet abbiamo visto questa stampante che tramite anche i loro programmi probabilmente funzionerà guardate questa immagine qua che bella stampa anche abbastanza veloce dubito che sia velocità reale ma anche se non è veloce secondo me non è un problema perché questa stampante qua vi consentirà di percorrere nuovi orizzonti e più la stampa sarà difficile più la via sarà difficile ma più materiale avrete poi anche da da spiegare alle persone eccetera eccetera quindi secondo me questa è un'ottima scelta chiudiamo subito eravamo nella lista e ci siamo fermati sulla prima che costa pochissimo è interessante molto interessante c'è anche questa stampante che stampa paste spesse che costa 4300 euro ora entriamo a vedere com'è fatta non le guarderemo tutte perché ho poco tempo ancora 20 un quarto d'ora diciamo poi mi devo preparare per la lezione ricordo che insegno diciamo stampa 3D faccio al docente sistemi produttivi quindi insegno come funziona l'additive manufacturing in particolare con l'estrusione a filamento perché sono molto capaci in questo ma le panoramiche generali comunque le facciamo ti ricordo che puoi guardare le lezioni che faccio e il programma che ho con i miei studenti su stampa 3D per scuole che non è altro che la gazzetta della stampa 3D in cui ci sono molte notizie ma anche tanti corsi diciamo tanti corsi perché perché l'ho suddiviso in prima seconda terza quarta ho dovuto fare un piano formativo professionale un pfp dedicato a diciamo l'apprendimento da parte degli studenti di questa materia chiudiamo subito diciamo gazzetta stampa 3D o stampa 3D per scuole punto it questa stampante qua ora la stavamo guardando non è altro che questa costa molto ma secondo me questa è trasportabile questi qua sono dei geni signori voglio andare subito a vedere il sito vediamo se qualcuno mi scrive non sto guardando la chat 3D printer fondamentale usare le chiavi di ricerca giusta guardiamo il primo risultato che non è un annuncio eccola qua signori sicuramente faremo un'altra diretta dedicata a questa cosa perché non ho analizzato praticamente niente cioè sono delle panoramiche generali che vi sto facendo e devo ancora cercare magari feedback devo ancora cercare aziende che la utilizzano devo ancora capire che materiali vengono inserite qua ti danno addirittura le ricette signori miei siamo molto avanti non in italia cioè ora in un momento simile secondo me qua in italia bisogna smetterla di far sempre le stesse cose e cominciare a utilizzare il cervello quindi far delle ricerche leggere ok smettere di perdere tempo davanti a una televisione o a una radio o a dei programmi che non servono a niente perché non sto dicendo che magari alcuni alcune forme di informazione non dicano la verità assolutamente ma non servono a niente cioè devi prendere atto che se tu guardi il grande fratello o se tu guardi anche un telegiornale a caso o se tu guardi qualsiasi cosa sulla tv tradizionale tendenzialmente non serve a niente perché quei programmi lì sono fatti per fare audience e per venderti la pubblicità quello che sto facendo invece io sto costruendo una community e sto cercando ok di far sviluppare l'additive all'interno del mercato italiano perché il mercato italiano è sempre stato pieno di persone brave nell'utilizzare per esempio macchinari ok ingegneri molto avanzati tanti si sciacquano la bocca anche con da vinci però poi oggi non c'è cioè ci sono persone che veramente fanno pietà questo perché perché in italia diciamo c'è l'approccio ma ormai non c'è più non è che non c'è neanche competenza ma ci sono sempre le stesse competenze magari l'approccio italiano è corretto è giusto è lavorativo ok è anche serio professionale tutto ma focalizzato su una cosa sbagliata quindi è fondamentale spostare il focus e cominciare a informarti e diventare professionista come lo sei sempre stato ok ma in altri settori possibilmente pensa anche a come proporti ovviamente in un futuro all'estero questa stampante qua quindi vediamo cosa fa stampa cibo una stampante 3d per il cibo aspetta cos benefici creare personalizzare sperimentare attirare spicca ok sono tutti i termini che comunque utilizzo anch'io guardate che bella questa fragola qua aperta vediamola becchiamoci questo video una stampante 3d in mezzo alla natura che stampa cioccolato o anzi cibo scusatemi e però sono bravi anche il video l'ho fatto bene però andiamo avanti allora vediamo la stampante che stampa crema questo qua è crema signori non è più cioccolato cioè dalla materia prima coltivata a una crema ok cioè la materia prima te la fai e sono tutti in cerca di un mercato in cui puoi farti la materia prima ma nessuno purtroppo ci arriva più eccola qua una soluzione ti costruisci diciamo la materia prima in casa e te la stampi con uno strumento che volendo visto anche le competenze che abbiamo in Italia nel settore della meccanica della progettazione meccanica potrebbe essere anche progettata qua in Italia ma non sarebbe comunque un problema usare dei macchinari comprati all'estero però che ti consentono di fare una produzione interna italiana soprattutto nel campo in un campo primario passatemi il termine cioè nella generazione di cibo hanno provato a stampare carni sono sempre le solite notizie ovviamente che deviano perché perché la carne ovviamente non è normale da stampare perché non ha un senso logico però se tu prendi una pianta la trituri e crei una crema dopo estrudi quella crema lì quindi semplicemente la notizia della carne è una notizia per deviare i veri orizzonti infatti per quello che vi dico informatevi molto veramente un bel lavoro io vi dico una cosa terminerei qua la diretta perché sono un po' stanco non sono ancora abituato abbiamo visto un sacco di informazioni dedicate al settore delle pasticcerie ristorazioni bar ok o anche libri professionisti che vogliono specializzarsi in qualcosa di differente vogliono cambiare lavoro vogliono magari hanno perso il lavoro e vogliono differenziarsi allora magari investendo soprattutto molto tempo pochi soldi perché vedete che alcune stampanti non costano molto è possibile far cosa è possibile aprirsi un mercato vi dico signori ancora nessuno oggi si è conquistato in Italia diciamo il merito di essere il primo che stampa cibo con la stampante 3D perché ancora secondo me non è proprio ben visto perché cioè proprio tagli le gambe a alcune alcune persone però è possibile signori e per persone che vogliono della visibilità possono comprare una stampante così e fare dei video o per se vogliono sviluppare nuove competenze nuove competenze anche nel fare dei materiali o delle miscele ad hoc per queste stampanti qua e possono comprarla e fare i test del caso lascio questa diretta con l'elenco che la prossima volta approfondiremo quindi la prossima diretta cioè magari oggi pomeriggio quando finirò di fare lezione sarà la continuazione di questa abbiamo visto la prima stampante che stampa cioccolato abbiamo visto la seconda stampante che costa di più che stampa paste spesse vi ho anche detto che ho un canale youtube potete iscrivervi Marco Ardesi in fabula ho questo canale di twitch appena aperto sto cominciando a fare queste dirette di prova ok in cui ci sono pochissime persone solo amici e in più non ho molti follower quindi le faccio giusto per imparare poi me le riascolto e vedo anche le reazioni delle persone però questa lezione di prova diciamo questa diretta secondo me è importantissima cioè quindi sarà disponibile online su twitch probabilmente la metterò disponibile anche su youtube per riuscire a portare i follower su twitch quindi ti ho detto ho un canale youtube ho un canale di twitch ho un'azienda che si chiama fabula3d.it puoi andare a vedere il sito noi stampiamo materiale plastico come service ed è lì il mio guadagno diciamo e ho anche un libro virtuale un sito internet che stampatrediperscuale.it che uso per far lezione agli studenti e se vuoi contribuire al mio progetto quindi se vuoi continuare a darmi le vitamine per buttare il tempo nell'informarvi nell'informarmi e nell'informarvi allora puoi contribuire abbonandoti puoi pagare l'abbonamento costa 2 euro e 49 al mese trovi in descrizione dei miei video su youtube il link ma sinceramente non mi va neanche di promuoverlo in questa diretta ve ne parlerò più avanti alla prossima show b grazie a tutti grazie a tutti